Fabrizio Corona sconvolge il web con le sue parole. Ecco cosa è successo dopo l'ecografia di Sara Barbieri La compagna di Fabrizio Corona è incinta. Sara Barbieri, che svolge la professione di modella, sta aspettando un maschietto Non ha mai nascosto la sua gravidanza. Al contrario, ha usato Instagram per pubblicare contenuti dedicati proprio al bambino che nascerà. Il comportamento del compagno, tuttavia, sta destando una certa preoccupazione Di recente, si è espresso con parole controverse, che hanno generato grande scompiglio sul social network. In pochi si sarebbero aspettati una simile reazione Le critiche del popolo del web non hanno tardato ad arrivare Ciò non ha fatto altro che gravare sull'immagine della coppia, già compromessa da altri accadimenti Fabrizio Corona fuori controllo, la bestemmia indiretta fa infuriare il web Fabrizio Corona è una figura controversa. C'è chi non gli ha mai puntato il dito contro e chi, al contrario, non vede di buon occhio i suoi comportamenti Al momento, sta aspettando un bambino da Sara Barbieri. Il piccolo nascerà tra qualche mese Nel frattempo, la donna si sta sottoponendo alle regolari visite di controllo È stato proprio a seguito di un'ecografia che si è verificato un evento imprevisto Fabrizio Corona, insieme alla sua compagna, ha commentato la data presunta del parto Essa è fissata per il 25 dicembre, il giorno di Natale. L'ex re dei paparazzi, in una storia su Instagram, si è lasciato andare a una bestemmia È apparsa davvero fuori luogo, soprattutto perché la piattaforma è pubblica e tutti possono accedere al contenuto Poco dopo, ha criticato anche i tempi legati alla gravidanza Ritiene che nove mesi siano troppi. Avrebbe preferito che l'attesa durasse meno, comunque il periodo della gravidanza dura troppo e nessuno ha il coraggio di dirlo Che due coglioni. Tali affermazioni non hanno divertito i sostenitori della coppia Buona parte del popolo del web si è scagliata contro di lui per il linguaggio usato Non è la prima volta che accade una cosa del genere.Fabrizio Corona è stato molto criticato anche per il suo desiderio di avere assolutamente una femminuccia Nonostante le critiche, l'uomo sembra felice della situazione attuale e di avere una relazione con Sara La considera più matura rispetto alla sua età, sto con una ragazza di 23 anni con la testa di 50, ma ha la leggerezza di una 23enne Non voglio stare con una ragazzina perché voglio fare il 50enne Playboy, ma perché lei ha voglia di vita Grazie mille